L'assessore regionale alla salute Lucia Borsellino lascia la giunta a crocetta, uno dei segnali più eclatanti della crisi di un governo che adesso dopo tanti scossoni vacilla vistosamente. Ammessi nel nome dell'ex rappresentante di giunta era stato più volte pronunciato in relazione alle sorti dell'ospedale Piemonte, rappresentanti dei sindacati del Comitato Salvare dell'ospedale Piemonte avevano più volte contestato l'operato di Lucia Borsellino che sul tema dei posti letto da riservare alle emergenze urgenze e quindi al pronto soccorso avrebbe fornito sempre e solo risposte evasive. A breve sarà nominato un nuovo assessore alla salute, il nome sarà scelto come gli altri in base agli equilibri politici da tutelare per evitare che il governo Crocetta cada definitivamente e si vada alle elezioni. Difficile dire se il punto di vista del nuovo assessore sull'ospedale Piemonte sarà diverso da quello dell'ex Lucia Borsellino. L'accorpamento con l'Istituto Neurolesi sembra per il momento l'unica strada tracciata dalle istituzioni che rassicurano sul mantenimento di pronto soccorso, ma Orsa, Will e Comitato continuano a non credere alle promesse. A breve potranno confrontarsi con un nuovo assessore.